Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa di Satana. Noi umilmente ti chiediamo di inviare le legioni celesti affinché ai tuoi ordini perseguiti noi demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li sprofondino nell'abisso. Chi è come Dio? O buona e cara Madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O Divina Madre, invia i Santi Angeli per difenderci e respingere lontano da noi il crudele nemico. Santi Angeli ed Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Amen. Grazie a tutti.